Sì, abbastanza, rispetto a quanto pensavo sì. C'è stato un passo avanti rispetto a come era prima la situazione messa in esempio per loro, di società o altre cose. Ma avete un po' paura di andare nelle case? Non sai mai a chi vai e consegni, il problema è quello. Ci tutelano e noi in più manteniamo le norme di sicurezza regolari, guanti, mascherine, a distanza quando facciamo le consegne, il pagamento contante eliminato in maniera talvolta tutelarci, anche noi abbiamo famiglie a casa e questo è il discorso. Grazie 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 Grazie